In un mondo che sta cambiando e dove i valori non contano e che fa della mediocrità un vanto, c'è chi non segue la corrente e non la dà vinta al sistema. C'è chi non si accontenta di quello che è la moda, ma vuole percorrere strade nuove inesplorate al resto del mondo. Signori, state pronti a scoprire il nuovo modo di fare le cose. Lui sente cose, lui vede cose. Lui è lo Xela. Lui è lo Xela. Amiche, amici, amici dell'Oxela, ben ritrovati. Sono in un posto meraviglioso. Ora poi vi inquadro bene chi c'è con me. Il mitico Claudio, Claudio Radio, che è tantissimo che non lo vediamo, ma siamo venuti a trovarlo. Cattivi. Cattivi come l'agio, vi dico poi dove siamo. Al mio fianco abbiamo Matteo, eccolo qua, grande, che anche lui non è tantissimo, non è poco. È un'amicizia. È un'amicizia, sembra un'amicizia. E poi abbiamo l'onore, il piacere e l'onore di essere ospiti di Fabrizio, che non è andata a vedere il suo profilo perché vi sentite male. Se volete le chiavi di Lecco, il vice sindaco ce l'avete davanti. Non è andata, vi sentite male dai pesci che prende. E infatti siamo arrivati e ha pensato bene di farsi trovare. Ora giro la telecamera, giro la telecamera. Allora, ecco questo, questo è un portacchiavi. Come si chiama questo? Come si chiama questo? Questo è Giacomo. Quello è Giacomo. Poi c'è il suo padre che arriva sui quasi 5 kg. Che arriverà fra un po' dai. Ok, spettacolo. Speriamo bene, dai. Dai, grande. E questo già l'ha preso. Adesso io mi metto laggiù dove c'è il tubo. Claudio si mette vicino a me. E Matteo è posto migliore. E Matteo si è messo nel posto migliore a Valle. Cominciamo lì. Ragazzi, un posto strepitoso. Dove siamo, Cla? Siamo a Lecco. Al lago di Lecco. Che poi, l'oddio, questo non è popolato. Questo è Adda, esatto. Il lago comincia laggiù in fondo. Questo è fiume. Siamo sull'Adda. No, la clinica è Ponteferrovia. Ponteferrovia perché c'è la ferrovia. Potrebbe essere un indizio, sì. Questo è il ponte qua. Ragazzi, intanto guardate un po'. Guardate la maglietta di Claudio. Guardate il resegone. Quello è il nostro mitico resegone. Guardate che panorama. Purtroppo le grigne non si vedono. Sì, dentro questa montagna. Le grigne cosa sono? Dentro questa montagna non si vedono. Siamo da sopra... Da sopra... Ma cosa monti? Monti? I monti nomati della zona sono i tre più alti. 2300, 2000 e... Eh, almeno. 2600, 2300. Non ricordo bene. Un spettacolo. L'unica cosa che vedo è che passano tantissime barche. Eh, sì, adesso... Quindi, va bene. Perché io, no, sì. Tanti più giù c'è, si forma il lago di Olvinate, no? Garlate. Garlate. E lì c'è il rinnessaggio, che quindi chiamano le barche i commoni, usano per il rinnessaggio. Poi risalgono, ma da fino andare, a noi delle barche oggi non ce ne fregheranno una mazza, perché peschiamo a Fidero. Esatto, esatto. Chiaro che se ero qua a passata, mi giravano un po'. Due pietre gliele potevamo anche tirare. Sì, perché a passata ero un marcelletto. Anche perché passano abbastanza, cioè non tanto piano. Vabbè, comunque, ti vedi in carognito? Sì, sì, sono pronto. Andiamo. No, potrebbe essere un barbetto o un qualcosa in giro. Però anche un pigo, mi dice. Però anche, se è un pigo è bello. Un pighetto. O un barbetto o un pighetto. Ha fatto, purtroppo non avevo il telefono portato, ha fatto una fuga, che fa un po' di butta alla canna in acqua. Eh beh, eh beh, dai. Dà delle belle testate, eh, però. Potrebbe essere un barbetto, quella delle testate. Ah. Eccolo là. Un barbetto non è tanto. È un bel barbo. E' un pigo. è un bel pigo questa è la taglia più o meno classica spettacolo gli over già quello comunque conosco gente che non è capace a prenderla neanche in pescheria facciamo anche una bella foto bello grande dai dai vado a montare ok ci siamo quasi dunque abbiamo preso una piccola porzione di bigattini da tenere così sfusi abbiamo montato questo angherzo qua dentro ci ho messo delle perline perché si sgancio rapido ora andremo ad attaccarci a un finalino corto corto andremo ad incollare i bigattini con la bellinca polverina roba buona che poi andremo ad inserire dentro al pasturatore e ora avanti allora questo è il piombo si stava assestando sul fondo prima primo lancio 30 secondi lì e ho fatto a capire il pasturatore il pasturatore era sul fondo e ovviamente l'ho perso sono trovati bigattini mangiati e probabilmente un pigo probabilmente allora io ora sto pescando clipato quindi non so neanche se è proprio la cosa giusta però vediamo la tocca prima l'abbiamo vista ha mangiato in caduta aveva appena toccato l'acqua spettacolo spettacolo ma ti vedo bene come rimbalza sul fondo un po' troppo non l'ho neanche montato il guadino perché mi piace benin che bello benin che bello non lo so ma è bello questo si è mangiato il pasturatore in pratica no no lascia lo spiaggio si si questo qua deve essere il fratello maggiore di quello di prima adesso presto e si comincia a ragionare io ho preso due minchiette prima bollini grazie se non è il doppio forse anche di più grazie grazie io sono già a posto ma spettacolo ha mangiato ho lanciato aspettavo che toccasse ha cominciato a fare boom 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 questo potrebbe essere no questo ora provo no non è il pesce ma te in cattura pigo comunque sono micidiali questi pesci qua non si arrendono mai ma hai detto che qua non arrivano non si arriva dal ponte guarda il tuo pesciotto lì che ti vuole bene non ti vuole lasciare se ne andrete più se ne andrete vai che malattico signori qua ce n'è un altro ragazzi direi che è un pico un paigus bowling è meraviglia guarda che bello se ne andato il mio amo no no ha strappato perfetto ottimo questo è il fondo questo è il pesce pam però stavolta monto al guadina però ora preso bello cos'è un pico guardate qua vai vai che ha già sbattuto ha fatto un po' di sangue montiamo al guadino perché se si comincia così è d'obbligo pare che sei arrivato il barbone barbetto barbetto ma guarda tutti ma veramente anche io l'ho preso prima ce l'aveva nel fianco ce l'aveva più lungo più grosso ma eh sì pare eccolo qua cos'è questo barbo c'è un cianni tumori andiamo un po' dal mio amico qua che siamo in amicizia che sei anche nel posto migliore non volevo dirtelo sono tutte le alghe lì io ho lanciato mi sono lanciate voi e che ho sulle alghe c'è le alghe ma alle volte le alghe nascondono i posti migliori le tinghe ci saranno arriveranno qua le tinghe io penso ecco l'ha spaccato il motore allora monto il guadino perché visto che è così non posso fare a meno il pigo guarda che bello che è fermo fermo che ti rilasco ma perché devi fare così perché devi fare questo ti rilasco si è già slamato guarda che bello è che vieni danno delle testate in terra guarda 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 mi è caduto anche il guadino va bene allora e si feriscono si feriscono ecco dai esci ok ecco eh vedi esce un po' di sangue sbaltano in terra prendono delle testate che anche se non vuoi farle prendere dai vattene però mi fai sentire anche in colpa ecco tu qua dai vai oh grande un po' più forte un po' più forte magari ti capottassi e ti mangiassi una tinca questo sembrerebbe bello 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 vediamo un po' molto freestyle recupero con l'ascella eccolo lì cos'è? un pigo dalla bocca devastata non è neanche tanto più grosso rispetto agli altri è che è più in carro di niente guadino è un po' più grosso ragazzi guardate come è rovinato questo pesce guarda che bocca che ha maledetti dai forza io ho torslamato bene ma quello di prima mi sta di no ok grande hai perso mate è incocciato ora sembrerebbe anche bello andiamo pam è un pigo stavolta ci abbiamo a guadino perché siamo pescatori no ma pensa sì ma guarda te che verso che mi ha fatto il guadino siamo pescatori professionisti ma fino a un certo punto perché ok è grande Igo oh ragazzi non si stanchano non si arrendono mai a questi pesciotti qua guarda che bello guarda che bello spettacolo mi sa che non peschi tanto sottile come ti avevo detto però guarda non c'è neanche terminale si che c'è è attaccato lì è attaccato qua no guarda siamo invisibili siamo invisibili via sono indemoniati questi pesciotti è rincoglionito perché anche per mangiare sulla mevespa perché cosa c'è è invisibile giusto grazie Fabrizio in cattura tanto io allora ho dovuto mangiare qui alle bestie è infilato sotto ecco il pesce signori la tocca tiro 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 bam c'è rimasto dopo il pasturatore c'è che onestamente ti dico mi aspettavo anche anche peggio come alghe si e allora si è slamato e era rimasto lì sotto andiamo a vedere matteo che dai consigli ecco a lui si a me no certo ma perché ma hai dato 10 euro gli ho fatto ah ecco ecco hai capito com'è hai capito com'è mi dai 10 euro anche te ti fatti 13 grigio no no io vado a prendere ancora un pesciotto che non mi dispiacerebbe allora bigattino incollato si mette tutto dentro al pasturatore ci si mette il bigattino l'amo innescato in mezzo e ci si rimette sopra altri bigattini incollati si lancia e si aspetta ora si sono un po rarefatte le tocche non vorrei anche che fossero questi bastiani qua con le barche ma non credo ogni tanto mi dice che lo fanno e va bene l'importante è aspettare allora io di solito quando faccio questo tipo di pesca prima di riempire il pasturatore ci soffio in modo da cercare di asciugarlo perché secondo me rimanendo bagnato mettendoci dentro i bigattini incollati potrebbe accelerare troppo l'azione di sgrego della colla e quindi perdere gran parte del carico prima che il pasturatore arrivi sul fondo questa è una mia mania per un po di pasturatore eccola qua la tocca questo pesce questo è il pesce pam c'è rimasto a dopo se ne è andato l'ho perso l'ho perso qua sotto l'ho tirato fino qua sotto e poi pam e tenso la mano pazienza ci sta stupendo giornata meravigliosa panorama meraviglioso spot della madonna matteo in canna bua che qua grande non diciamo niente con l'amo mi cado è un bel barbone sì allora andiamo la vabbè dai lasciamo la canna qua che se non si dovrebbe mai fare soprattutto quando mangiano così bello anche questo non male link dal pico da che vado un attimo vale 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 diciamo eccolo lì dobbiamo anche il granchiette lì le gambe avrete morto bello sarà un tre etti due etti e mezzo no 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 non lo so non va bene non lo monto questo allora io ho il pico Fabrizio c'è un pesce e Matte c'è il pesce e io la canna da cartone e lui se n'è andato oh aspetta che qua salta ora lo slamiamo perché è cosa buona vista e poi lo lasciamo andare metto che hanno rallentato quindi fra un po' proverò un barbatrucco vediamo un po' cosa succede non dico niente a nessuno e vedo un po' cosa niente ora provo una cosa se non funziona condivido se funziona questo è il mini di giornata che mi ha di nuovo si ha di nuovo straccavo bene guarda che bella caduta in acqua l'avete vista Matteo pescione in canna ma si sapeva che era il posto migliore è quello questo questo un po' mi ferisce mamma mia che maialino spettacolo ma grande rilasciamolo in modo visto che l'ho tirato su da cani eh vedi che questo un po' mi ha fatto male un po' mi ha fatto male questo ma no non ti fa male ci hai abituato da prenderli ne prendo uno ogni vent'anni ma ho capito proprio per quello che è comunque ragazzi ho capito ho capito ho capito ho capito allora prima o poi ti formerai eh e fa!'sabio ma hoepende comunque è un bel nappone eh bello bello dai forza Allora dai forza vattene e anche Matteo è un pigo quello di Matteo questa qua mi vuole bene ma io anche lo sai che preferisco il branzino eh però vai dai forza grande allora Fabio dice che potrebbe essere il barbone un lelu potrebbe essere un lelu però dai io mi sono messo a barbie con quest'esca meravigliosa e ho preso il pigo barbo eccolo lì spettacolo mercoledì che liscio clamoroso che liscio allora diciamoci che il bigattino batte al pellet 10 a 1 onestamente non pensavo ho detto magari barbie ma al momento esperimento fallito certo che se mi mettessi gli occhiali per fare questi lavori sarebbe meglio a Grazie a tutti. E qua c'è rimasto. Non sapevo se ero io che avevo mosso per dare da mangiare alle bestie, invece l'alpece. Allora niente, bigattino, batte pellet, 10 a 1. Si è già gallato, mi sa che potrebbe essere anche una brem. No, però non tira la brem. Eh? Una trota! Eh, ci sono, le abbiamo prese. Pigo! Big house! Ora, vediamo di non farlo sbattere in terra come tutti i suoi simili. Che è successo? Se mi hai strappato ti sbatto in terra io. No! Mi ha strappato. Mi ha strappato. Allora, vediamo un po'. Stai lì, non ti muovere che... Devo vedere i danni che mai hai fatto. Mi hai strappato. Basta, Balordo! Dammi l'amo. Dammi l'amo. Con quello che costa. Ma ridami l'amo. Eccolo. C'ho le girelline, quelle che avevo a Tripoli, che si aprono due su tre. Eccolo qui. Caduti in acqua, caduti in acqua. Si è visto. Eccolo. Guarda che bello. Bellissimo. Bellissimo. Vai. Grande Cla. Dai che forse abbiamo allontanato la maledizione. No, non diciamo niente. Eccolo, eccolo. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, vai, vai. Eeeh, eeeh. E voilà. Abbiamo avuto la fortuna, non si sa. Ma guarda. Quando li vedremo staccare la piegata. Dunque, ora ho fatto un innesco un po' particolare. Ho preso il lamo, quello con le ringhe da pellet, e ci ho messo dentro il bigattino. E l'ho messo dentro ai bigattini incollati. Vediamo un po'. Quindi in teoria c'è lamo scoperto, con un bigattino messo lì. In teoria, come succhia, non siamo contenti. Sempre. Sono le 7.40. Direi che le tocche si sono fermate del tutto. Faccio ancora due, tre lanci, giusto per finire. No, finire no, perché ne ho tanti. Per buttare ancora un po' due bigattini, poi... Quindi direi che ci siamo. Oggi è stata una giornata, una giornata torna. Sembrava di aver visto muovere, ma invece stanno imbalzando sul fondo, il pasturatore. Oggi è giornata torna. Fantastico. Signori, il cavedano ci è venuto a trovare. Vabbè, dov'è andato? Eccolo là. E' qua che ha... Guarda, due, tre. Eccoli, sono arrivati i cavedani. Eccolo lì. Boom. E intanto, vediamo un po'. Scendere lì. Noi si parla e lui incarna. Anche perché comunque noi abbiamo fatto. Giusto? Minginocchio è la superiorità dell'Oxela quotidiana. No, va bene. Che è veramente dominato a numero. A numero sì, a qualità no. A qualità mai fatto male. A qualità bisogna. Vorrebbe guardare, guardiamo le immagini. A qualità mai fatto male. Guardiamo il replay. Eh no, a qualità mai fatto male, te lo dico già. Aspetta, vediamo un po'. Visto che c'erano 4-5 cavedani qua che viaggiavano. Hai visto qua sotto i cavedani che erano in caccia. Cos'è? Pighetto. Vabbè, però dai, era un po' che... Torno a muoversi quel tocco. Non si vedevano tocchi. Direi che chiudiamo in bellezza, chiudiamo. Dunque, io vi invito ad andare a vedere i social di questo signore. E anche il canale YouTube Fabrizio Scala. Giusto? Allora, aspetta che non mi ricordo. Vabbè, comunque Fabrizio Scala ti trovano. Sì, sì, mi trovo. Ok. Sui social Fabrizio Scala. Forse Fishing Time by Fabrizio Scala. Ok, comunque. Fishing Time by Fabrizio Scala. Andate a vedere. Perché... Mi divertite un po' se vi piace guardare anche i video. Perché se vi piace guardare dei pesci piccate. Di pesci. Esatto. E quindi, insomma, diciamoci che cerchiamo un po' di tirarlo dentro anche ai nostri gruppi. Così magari quando veniamo a pescare con lui qualche pesce lo vediamo. Giusto? E si impara. A parte che adesso è cambiata, è cambiata. Lo dico anche che ci siete voi due. Dove vai? No, perché mi fai paura? Perché mi fai paura? Perché mi fai paura? Lo dico a te e a te... Io devo cambiare la canna. Quella canna lì la rompiamo insieme. Sì, sì. Gli diamo fuoco. E poi ci presentiamo i pomodori. I pomodori. E una canna da pomodori. Perché è una... Non lo diciamo per te. No, non diciamo. È vero, è vero. Non bisogna dire questa cosa qua. Dopo quel video però diremo... No, neanche. No. Qualcuno... Esatto. Qualcuno che... Qualcuno che conoscete. Che fra un po' spero che venga a pescare con noi. No, no, no. Non diciamo niente. Non va bene. O la Martina. No, no, no. Diciamo che d'ora in poi cambierà tutto. Te lo dico. Preparati perché da quest'estate quando mi arriverà la Martina che fra un po' dovrebbe arrivare cambia tutto. Cambia tutto. Facciamo le cose fatte bene. Giusto? Non come quando... Guarda, lascia perdere. La gente che va... Meglio, meglio perdere che trovarla. Qua! Posto meraviglioso. ci ha fatto conoscere. Vabbè. Alla prossima. Non posso dire che mi sono divertito a pesci. Purtroppo... Perché... Dobbiamo studiarci. Meglio una brutta giornata di pesca che una bella giornata di lavoro. Bravissimo. Bravissimo. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. E' buono. E' buono. Con Fabrizio. Sì, con Fabrizio. E poi magari vediamo anche qualche nome un pochettino più alto sonnante. Visto che è anche amico di... Esatto. Giustamente. Comunque. No, no, niente. Ho già detto tutto. Basta così. Parlando di robe serie. Fabrizio, sì, allora io ne approfitto per salutare Fabrizio. Grande, grazie d'averci fatto... Grazie a voi. D'averci dato le dritte. Quattro risate ai quattro pesci che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Meglio di così. Un po' di sole, un po' di frescura. Bolli, ora si sta da 10. Ora si sta da 10. Qua si sta sempre bene. Sì, sì, sì. Prima quando si era alzata quel venticello io sono rinnato. Facciamo il bagno. Io quasi quasi. Quasi quasi. Pluffettere. Bravbo. Direi che ci vediamo la prossima volta. La prossima volta puntiamo le tinche. Bravbo. Puntiamo le tinche e andiamo più in su. Perfetto. Vediamo se riusciamo magari a settembre così. Beh, va bene. Quando torno dalle ferie. No, a vedere. Ci troviamo un buco, speriamo. Quando torno dalle ferie. Ci troviamo libero che ci piacciamo là. E poi vediamo anche di trascinare il tuo amico. Non diciamo chi. Ah, il famoso. Il famoso, il famoso. Basta che ho visto che ci hai già fatto un video insieme. Già, un video. Ho fatto solo tirato dentro un chiuso. L'apparizione. L'apparizione. Però, beh, hanno voluto la mia partecipazione visto che ero lì a trovarli. Ok. Mi ha fatto piacere che a me. Quindi direi che ci vediamo alla prossima. Così, quando lo becchiamo gli facciamo vedere come... Esatto. Lui è number one. Vabbè, lo credo. Vabbè, lo fa di... Lo fa di mestiere. Non diciamo altro perché se no... Questa pesca non è la mia pesca. Questa è la mia pesca di rilassamento del lavoro. Ok. Perché io lavoro sata. È un lavoro. Diciamocelo che ha. È un lavoro. È un lavoro. È un lavoro che ti devi portare. Vabbè, quello... Quello lasciamo per noi proprio. Con noi sfondi una porta aperta. Niente, dai. Alla prossima. Alla prossima. Grazie di tutto. Grande. Ciao ragazzi. Matte, alla prossima. Alla prossima. Ha fatto col paccio comunque. Ha fatto col paccio. Perché qua i cavedini qua... Ma poi così. Ne stanno tirando fuori pochi. Ma no. E tirali fuori vabbè. Ma ha fatto male. In qualsiasi maniera ma già escono col contagocci. Ma ha fatto molto male. Un bacio bastone. Bene. Bello. Ok. Arrivedo. Spero che questo video abbia fatto una prova con la nuova telecamera. Spero di non fare del casino. Se vedete dei pezzi che non c'entra niente sappiate che è colpa di Matteo. Sì, poi... Già. La colpa è proprio di Matteo. Perdevamo un po' il senso anche a volte perché passano queste barche con certi pezzi. Sì, perché allora... Le pighe. Le pighe. Esatto. Le pighe. Qua ci sono tanti pighi che ne abbiamo presi tanti ma ne sono passati anche tanti a concentrarsi. Si perdeva la boccata. Le cani che facevano così e te... Ciao. Vuoi che non venga più a pescare? Eh? Vuoi che non venga più a pescare? No. Se ti comporti così, sì, va bene. Però i capelli sono più feriti. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao